Uuuuuh, che male! Aia zio Billone, aia! Aiaiai, che cazzo ci faceva Lara la maschera? E adesso come faccio ad andare al bello di stasera con questo pollice che mi fa male? Come potrei fare? Forse se la indosso il dolore passa. Sembra che il dolore sia svanito. Speriamo che non scrivano questo effetto miracoloso sul giornale. Un? 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 Un?